grande palme oh perchè vedo così? che è sta roba? ma io ne ho tutte le armi tranquillamente io ho trovato il bagno della mappa ma che è sta roba nuova? eh se te lo dico non posso te lo dico a quella partita forse lo conosco pure io ma che è sta roba? ma dove state ragazzi? sono solo vabbè ma? ma? che è sta roba? oh sono in live finalmente dove? che cazzo? su youtube però ma perchè sono in game? ma non lo so io esci ma è pure classificata? what? esci ma? mi faccio una creativa per vedere un attimo come va mi hai capito che hanno fatto le squadre? che senso? come in che senso? ma perchè? what the fuck? me non avevo lasciato pronto ma c'è pure un tizio da me l'ho ucciso un colpo ne ho tirato oh cazzo allora sto pronti devo vedere se ma ma cosa sta succedendo? ma non lo so non lo so cosa stai facendo? era edit course che era edit course? era edit course il corso degli era io li ho battuti tutti quanti? e beh giustamente da play si comunque si vede molto ma molto bene 8 e 19 io ho fatto 8 e 22 volevo metterlo su youtube taggando però mi faceva troppo da vivere eh un po' comunque se vai se vai a vedere vai a vedere vai a vedere ti passo il video su youtube si vede un botto bene ma io entro in una partita senza che io non so andrà a ex iscriviti per favore iscriviti iscriviti ok lagga un pochino andate iscriviti ai su internet tipo 16 ma pochi perché non lo streamo mai io lo sei piano no vabbè c'è pure c'è pure gente c'è pure gente c'è io non ci vedo ma da pro da dentro lato sono andato cioè almeno sono andato mi sono ritrovato ma non mi sento nella live come no non mi sento nella live no vabbè ma dove sto andando ma perché un po' lagga anche per il coso no vabbè questi sono minigun e arco ma questa è la prima volta che faccio questa mappa minigun e arco assurdo assurdo come cazzo fate giocare minigun e arco ti sei scritto rip dai oh no vabbè no io ho quinto 150 HP no vabbè no no non posso ucciderlo ma chi è mi dici che gioca ogni giorno con i limiti e li batte io ho fatto uno contro lui e ho fatto 5 a 1 quindi non so se i limiti sono navi e lui che dice quanto lento sei bro ti ho detto la tecnica non è che sto lento è lento questo non è lento hai visto il mio prima quanto hai fatto? ma che sto laggando non ho fatto 10 10 0 minuti ma prova a iscriverti voglio vedere se avviene il coso su twitch io potrei mettere la webcam però non so se si fiede bene aspetta la prova a mettere la metto tac no ho subito tolto perché c'è il capelletto sminchio tu intendi tipo questo guarda venite un attimo in privata essendomi fatta la doccia essendomi fatta la doccia si vede? troppa luce fammi riscrivere la luce venite figli di puttana venite così è tutto scuro più figo oh ma mica bello più figo ciao ragazzi palme no ma mica che se no che eh non avevo le cuffie scusami adesso ho messo pure la face in privata in privata in privata perché? ti devo far vedere devi una cuffia ma cosa? oh madonna ma cosa mi devi far vedere? è cresciuta la fila la culo del culo ho messo ho messo pure il coso guarda tu tieni questo fammi vedere che c'è? lo vedi? scusa con cosa con streamlabs però cioè io vedo la gente che si iscrive guarda che figa senti anche la numero si sento allora guarda allora se si iscrivono succede questo ma di su youtube vedi? questo se si iscrivono si c'è sulla schermata se fanno le altre robe aspetta ah ma tu lo fai da lì lo faccio direttamente da OBS ma no bro devi scaricarti streamlabs eh streamlabs obs faccio così ah guarda se mi donano guarda si come cazzo si va? che cazzo? se ti donano? aspetta widget streamlabs ma ti sei iscritto al mio canale? oh marco dio si e non mi esce aspetta mi sta a chiamare quei rinconi di unbrite aggiungilo alla chiamata non cazzo no aggiungo oh giochiamo a post giochiamo come cazzo sono un barbo? tipo ti donano my account my donation ma giochiamo sì o no dai io voglio giocare ma guarda un attimo la mia stream guarda qua si vede dentro da OBS guarda che cazzo succede no palme tu lo sapevi sta roba fammene mutare fammene mutare io ho fatto sento guarda eh lo sto vedendo ma cos'è? non so non ci vuole entrare anche che cazzo è sta roba dove sei? no io non lo vedevo da OBS ma ti invito è tutto fatto apposto non c'entrino no la formazione squadra ma basta entrare basta ti invito io sono conti entro no non posso imitarti mi posso solo unire non posso invitarti siete nambi andrex tu ci sei siete nambi andrex ok mi ha crashato serio? mi ha crashato Fortnite non so per quale motivo non è sta roba raga credo è sta roba non è sta roba non è sta roba be right back be right back so chi squadra si si ci sono botte di cose posso mettere la spin wheel i can't e quando siete più di 5 giocatori credo ma dai no simpatica ma che ci vuole tanto state su discord grazie chi l'ha scritto tu l'hai scritto adesso ah bro è vero cazzo c'è hanno fatto online tutti i supporti e nessuno su discord voglia cane voglia cane eh sì no allora vieni o no io comunque non volendo ho un po' un green screen ATL più o meno ho apposto di divertirti con loro vieni con me ti ho invitato ATL ma io ora raga ma che raga ma che cazzo devo fare io raga io sono leader ma che cazzo devo fare eh bene andrà a chiuscire di venire andrà a chiuscire di venire a chiuscire di venire Merch Stalla subito Ma si faceva vedere quando uno donava Ma non ti lo ne erano mai mai Mi metto il like da solo Vabbè comunque E' tipo sta roba Ma come non mi compra Non ti doneranno mai Aspetta vai a mettere il microfono Un po' più vicino Alla bocca Ancora Ma anche voi quando tartate su forte Mi fa vedere sempre No a me no a me no Eh tu c'è il cancro Tu non ho il cancro Ho il palle A me no a me Sed Non ho il cancro Non ho il cancro Calme Se l'ho chiamato calme Non ho il suo Non ho il cancro Non ho il cancro Non ho il cancro Non c'è Che c'è il caro da giocare se già un granchino che invitato il cancro andiamo in disco ma perché mi scrivi più 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 non è che ho scritto più 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 comunque metterei andrex e palmer in competitive c'è soltanto un consiglio io mi associo io mi associo c'è Michele ti ho bustato di 30 punti stando fermo stando fermo addirittura stando fermo prima persona che hai contratto sei morto non è vero io mi dissocio aspetta voglio sentirlo nella salai dove è che l'hai spammato non so perché ma non mi prende sarà spammato gare widget ma io ce lo so rica sto un po' laggando si tu stai un po' laggando effettivamente stai un po' laggando è sever discord ragazzi sono io ok 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 dai oh basta voglio sentirlo in live ma no 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 si no 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 è bellissimo è assurdo lo faccio perfetto lo faccio mi dovrei fare le sfide però vabbè piccoli dettagli non è un po' aiutare la regola la regola no c che facciamo ci facciamo ci facciamo bella coppia non normal no normal ma che copia o ah o scuote che figlio scuote 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 no duo arena che voglio arrivare a 300 punti visto che tutti ci sono arrivati oddio no mi sentiva attenzione ma vieni di puttana però non so se farlo su twitch ragazzi come following come messaggio quando mi follow mi metto benvenuto nella o nell'horizont scuote 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 ma è meglio farlo su twitch o su youtube youtube all'inizio poi quando hai tanti follower su youtube dice venite qui venite qua facciamo la cacca oh la la oh la la però mi piace più sinceramente mi piace più twitch sì 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 perché la gente viene sì sì io farei twitch sì sì a io 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 Grazie a tutti.